3 settembre 2014, accanto al grande parcheggio di via Milano, angolo via Cavalli, questa struttura per la distribuzione del gas è ancora in questo modo da mesi, quindi la ditta che aveva in consegna il lavoro da completare, come mai fino ad oggi ha lasciato questa struttura ancora in questo modo scoperta ed esposta ai rischi vari e possibili a danno di chi transita da questo luogo, una domanda che per locatevia.it si ritiene necessaria a tutti gli addetti ai lavori competenti da riporre un minimo di attenzione su questo tipo di strutture.